La prima idea del libro viene da un fatto di cronaca. Ho letto su un giornale di un professore in pensione che torna nella sua vecchia scuola e cerca di investire con l'automobile un suo ex studente per ragioni di rancore, di rabbia. Questo piccolo fatto di cronaca che poi ha avuto anche delle conseguenze giudiziarie, ma ha imposto un interrogativo. Se quel professore fosse stato mio padre, io come avrei guardato fino a quel momento rispettabile padre di famiglia, che cosa sarebbe venuto meno? Forse l'autorità, forse l'autorevolezza. Da quel momento in poi ho cominciato a costruire la famiglia tramontana come una tipica famiglia italiana della middle class, della media borghesia e da lì effettivamente attraverso questo incidente iniziale si cominciano a muovere tutti i rapporti all'interno di questo nucleo. Questo piccolo evento di cronaca, calato dentro un preciso periodo storico, politico, naturalmente produce un effetto narrativo. Allora a quel punto intorno a questa piccola famiglia tramontana io avevo l'Italia degli anni di Berlusconi, quello che in Italia già comincia a essere chiamato il ventennio di Berlusconi, perché lui non è stato per vent'anni al governo, ma effettivamente è stato al centro della scena politica addirittura per vent'anni. Questi vent'anni sono coincisi con la mia tarda infanzia e tutta la mia prima giovinezza, perché Berlusconi è andato al governo quando io avevo undici anni la prima volta ed è uscito dall'ultimo governo quando io ne avevo vent'otto. Quindi tutto quello che è successo di importante nella mia vita privata in fondo ha anche a che fare con Berlusconi. Solo il primo bacio io l'ho dato sotto un governo di centrosinistra, quindi tra le tante esperienze possibili i governi di sinistra in Italia sono caduti molto velocemente. Allora volevo vedere che tipo di rapporto c'era tra la storia della famiglia tramontana e la storia con la S maiuscola, l'histoire dell'Italia di quegli anni. Molti in Italia mi hanno chiesto perché dove eravate tutti e non dove eravamo tutti effettivamente. E anzi qualcuno ha anche criticato questo voi, ma era in fondo all'inizio un dito puntato, un atto d'accusa di un giovane uomo che poteva somigliarmi, che si volta alle spalle e chiede conto alla generazione precedente, con una rabbia politica dice dove eravate tutti quando è successo tutto questo. Poi in realtà il fatto che non ci sia il punto interrogativo nella domanda fa sì che questa domanda si trasformi in qualcos'altro, ovvero in una constatazione. Nella volontà di questo giovane studente che sta tentando di fare una tesi di laurea sul berlusconismo e sugli anni zero, si trasforma nella volontà di collocare su una ideale linea del tempo le persone della sua vita. A quel punto non è più un interrogativo, ma è l'affermazione. Dove eravate tutti? Dove eravate mentre io non c'ero, mentre io non ero cosciente? Qual è la mia piccola storia personale rispetto alla storia degli altri, alla storia della mia famiglia? Tra gli autori italiani del secondo novecento, quelli che mi hanno più segnato come autore sono stati da un lato Italo Calvino, che ho letto per intero amando più e amando meno alcuni suoi libri, ma la cui lezione, la cui presenza è stata per me decisiva. E poi uno scrittore della generazione dopo Calvino, Antonio Tabucchi, che ho avuto invece la fortuna di conoscere, quindi ero un appassionato lettore dei suoi libri fin dagli anni della scuola superiore. Mi ricordo quando ho letto Sostiene Pereira nel 1997, quindi era uscito da pochi anni e la folgorazione per questo libro, per questo modo di scrivere e anche per un rapporto di questo scrittore con la letteratura intorno a lui, la letteratura prima di lui. Amo molto gli scrittori che senza essere citazionisti riescono a far sentire dietro i loro libri altri libri, cioè c'è un dialogo continuo con i libri degli altri e questa è una cosa che mi ha veramente molto segnato. Poi c'è un autore invece francese, sembra assurdo dirlo e farà anche forse sorridere, perché quando si nomina uno salta sempre un po' sulla sedia, ma se io non avessi letto l'inizio della Recherche di Proust, probabilmente non avrei mai cominciato a scrivere, perché aver letto quell'inizio, forse non avendo capito fino in fondo le cose, beh ha segnato talmente tanto la mia immaginazione, mi ha fatto dire per un attimo che quel libro lì era quel libro che io avrei voluto scrivere, c'era dentro un rapporto con la memoria, col tempo. Quello in cui credo è che può cambiare solo un individuo, un libro può agire laddove dentro quell'individuo si attiva uno spazio di umanità diverso, voglio dire che io scrivo perché quel lettore alimenti lo spazio della propria immaginazione, se il suo egoismo, quindi il mio, se la sua indifferenza, se il suo cinismo, se la sua distrazione vengono scalfiti, toccati dal mio libro, per me quello è un grande risultato, cioè se tu su una pagina, anche solo una pagina tra 200, alzi un momento lo sguardo e dici, non avevo mai pensato a questa cosa, non l'avevo mai vista in questi termini, adesso posso guardarla in un modo diverso, questo piccolo pezzo della mia vita o della vita degli altri, per me quello è l'unico grande risultato che la letteratura può ottenere. Tenere viva una parte umana dentro gli individui. Tra i libri dell'ultimo periodo che mi hanno colpito ce n'è uno di una scrittrice molto conosciuta in Francia che in Italia invece è la cui scoperta è recente, Annie Arnaud, Les Années, Gli Anni, è un titolo che tra l'altro lei condivide con Virginia Woolf perché c'è un romanzo che ha questo stesso titolo e c'è la stessa riflessione sul tempo. Quando ho letto alcune di quelle pagine che sono dei lunghi cataloghi di eventi, dei lunghi cataloghi di dettagli sono rimasto folgorato perché c'è un filo che lega quel tipo di narrazione a certi esperimenti di Pérec ma in fondo anche li supera e mi piace molto il romanzo pensato anche come un inventario del possibile, come una sorta appunto di gigantesco archivio dell'esistenza. E poi invece un piccolo libro che da quanto vedo forse anche molti francesi amanti della letteratura francese non conoscono e sta all'inizio della carriera di Flaubert e si chiama Novembre, è l'iniziazione sentimentale ed erotica di un ragazzo poco più che 17enne che nel giro di un mese, il mese triste, un po' piovoso e malinconico di Novembre, si mette in contatto con la vita, con il calore della vita e dentro questo spazio di neanche 100 pagine, Flaubert fa sentire come si costruisce un'identità, cioè come si forma una coscienza, ha a che fare con un rapporto tra un calore interno e un grigiore esterno e questo rapporto tra colori e calori secondo me lo rende un piccolo gioiello che già fa sentire in nuce le qualità dello scrittore che Flaubert sarà.